Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Belen Rodriguez, la showgirl argentina, si prepara a festeggiare il suo quarantegomo compleanno il prossimo 20 settembre e guarda al futuro con entusiasmo. Dopo un anno di pausa, è pronta per il suo ritorno in televisione e sta costruendo una nuova relazione con Angelo Edoardo Galvano. Tuttavia, i suoi rapporti con l'ex marito Stefano De Martino sembrano essere più complicati di quanto dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera. Nonostante Belen abbia affermato di avere un rapporto civile con Stefano, recenti scatti pubblicati da Key mostrano un quadro con un'immagine della coppia abbandonato per strada a Milano. Questo gesto sembra contraddire la dichiarazione della showgirl che ha parlato di aver seppellito l'ascia di guerra con l'ex marito dopo la vicenda delle dodici amanti. Mentre Belen si prepara per il suo ritorno in tv con il programma Amore alla prova, la crisi del settimo anno. Su Real Time, la sua vita privata continua a essere al centro del gossip. La relazione con Galvano procede bene, ma i rapporti con De Martino sembrano essere più tesi di quanto dichiarato. Nonostante l'ex marito abbia aiutato Belen con il trasloco, sembra che la showgirl sia pronta a voltare pagina e a mettersi il passato alle spalle. Il futuro di Belen Rodriguez si annuncia ricco di novità e di progetti professionali, ma il suo passato sentimentale continua a far parlare di sé. La showgirl argentina si appresta a festeggiare un traguardo importante, ma dovrà fare i conti con le sfide del...